Mi smuto. Mi smuto. Dov'è Morelli? Non c'è Morelli. Non c'è. Morelli dov'è? Morelli dov'è? Amici, guardate, si è molto amaro delle giocche. Amici! Moro, che cacchio mi rappresenta la tua assenza? Eh madonna, che pinna, Moro, un po' troppo. Ho capito, questa c'ho, ma... Ho pensato prima, facevo la doccia, ho detto, ma quasi quasi, non sai che stasera mi vedono pelato, ma che c'ha? Sto facendo senso. È veramente troppo. No, quella specie di Eurotrack che dicevano. È Yondu. Ha la Coppa 4. Cosa? Quale? Si chiama SnowRunner. Fatta, da settimana prossima ci vedrete. Ah, è vero che non vedete Morelli, adesso lo vedete. Tra un mese ci vedrete su SnowRunner. Ma cos'è? È un gioco tipo di SnowRunner. Moro, abbassati un pelo. Leggero, leggero. Lo dico simile a Eurotrack, ma non è vero. Moro, abbassati un po' a fare dispettoso. No. Però è un gioco un po' diverso. Convincimi. Eh, ti... Vorrei... Ti invito cortesemente. Va bene? Altrimenti ci incazziamo. Va bene? Cosa? Così, va bene? Mi ha cambiato un gacchio, Moro. Moro, vaffanculo, Marco. Lo rimetto così, lo rimetto. È un pelo meno di prima. Sento la pavetta, però, quando fa... Ciao, amici. Oggi facciamo Golf with... Voglio sentire la pavetta, poi, quando parlo. È perché se non... È ma persi ciancico, Marco. Tra l'altro, visto che hanno anche aggiornato molto... È la dentierina, Moro. L'altro Golf with your friends. Si potrebbe, magari, provare più oanti. Dovrei riscaricare. Ma... Non era già successa... In caso, anche, in una partita... Non era già successa questa cosa. No, ma adesso l'hanno proprio modificato tutto. È un po' tale quale. Ma anche, tipo, il sistema di tiro. Ma di che... Di Golf with your friends. Di Golf with your friends. Di Golf with, incredibile. Vedremo un po'. Eh, in caso, se ci accrono di loro, non ci si ritorna sull'altro. Il testo lo possiamo fare. Che problema c'è? A noi che ce ne voto, alla fine. Allora, facciamo partire... Allora, io vi avviso che stiamo lavorando... Non è vero, in realtà. Ve lo sto dicendo adesso in provviso. Stiamo lavorando per riportare anche Budi. Ah, non gliel'ho chiesto. Non so... Come feature, però. Infatti, non gliel'abbiamo chiesto, in realtà. Sennò, probabilmente, sarebbe anche venuto. Però non gliel'abbiamo chiesto. Dov'è? Non me ne frega niente, Elieza. Adesso glielo chiedi, per favore. Chiediglielo veloce, Nat. Ma Golf with ce l'ha, lui? Eh, ma io faccio... Ha fatto anche quello. Non credo ce l'abbia, quindi... No, glielo devo dire... Se lo faccio ne lo metterai anche... Ma si vede tanto male. E vuoi provare, Corvo? Ti infilo... Se sei voglia. Eh, dimmi tu che esco un po' l'uno. Sì, me lo inserisco, aspetta. Dai, dai. Ma cosa devo aprire adesso? Che si apre Golf with? Poi Golf with DirectX Dievoli. Gioca OpenGL, gioca Vulcan... Io faccio un gioco a Golf with. Il primo, è il primo. Allora... Anche con Golf with ti dice gioca Vulcan, gioca a Geekstex Dievoli. Sì, sì, a me lo dice. E guaglio e pipa e pa. Alexa, accendi la luce in salotto. Mi preparo per aprire la porta al mio amico Fabrizio. Detto anche... Fabrizio. O strunzio. Chiamano Fabrizio, lo chiamano Fabrizio, insomma. È questo? Ok. Adesso io mi preparo per i canali di comunicazione ufficiali, per farvi entrare all'interno di Codesto Gioco. Adesso c'era Servstri Stepan prima per la subs, grazie a me per l'anno, diciamo, troppo. Si toglie la finestra, amici? Non esistono le finestre. Allora, host game. Se non si vede... Ecco. Ecconi qua. È abbastanza affatto. Termos, password, oggi facciamo questa. Public. Direct map. Non scaricate un paio, vediamo. Un po' di grano. Eccolo qua. Sei tornato. Grazie Elinel. Grazie Elinel. Ciao Elinel, grazie mille per i tuoi 28 mesi. Adesso vedrete anche... Fabrizio! Nostro caro amico Fabrizio. Sono qui. Ah. Allora, gli Elinel, tanto mi posso unirmi dalla lista amici, sì, vero? Tanto in teoria posso unirmi dalla lista amici, esattamente. Unisciti alla partita. Ah, ho già sentito la musica di sottofondo che c'è in questa mappa. Allora, la password la scrivo. Ma l'ho già sentita. Nel gruppo... Nel termoglutizzo? Cosa? La musica c'è di sottofondo. Io non sento musica. Nel gruppo dei sub di Discord. Nel canale dei sub. Forse l'avevo tolta perché effettivamente... Avete capito? Dove ho scritto la password per i subscriber. Se siete subscriber e avete il gioco, potete giocare con noi al golf. Spariamoci. Fabri, ascoltami. Vai alla tua destra. Di più alla tua destra, con la testa. Bravo. Sei centrale. Vabbè, scusa, girate la telecamera. Si è spostata anche un pochino la telecamera, tra l'altro, quando sei andato un po' a destra. Perfetto. Ora sei molto centrale. Io, Marco, qua vado bene. Vado, Amoro. Si vede di più la principessa... Sì, sì. Esatto. Proprio lei. Non riesco a dire regina alla prima. Non so la palla. Sì, è bellissimo. Io non riesco neanche ad aprire i settings, quindi la musica non la sentirete, amici. Perché clicco, non succede niente. Adesso è sparita. Ah, è sparita. La principessa regina contessa, ovviamente. Sono subscriber, ma non è questa musica, l'hai sentita? Amici, guardate. Allora, se vi fa piacere, costa veramente poco e poco il giochino sui stand gaming. L'hai sentita su Goal Fit. Ah, è quella base di Goal Fit. Non è quella base di Goal Fit. A meno che non è di The Sims. Marco, tu sei la principessa qui. Che fai? Non è divertito le parole, comunque. Eh, scusa, mi corvo. Il senso di quello che hai detto era giusto, ma... Si sposta da sola. Ho ciucciato abbastanza, amici, che me lo chiedete sempre. Marco, mi ciucci, Marco, mi... Marco, mo' ciucci. Un sacco di roba così. Un giorno cadrai da quella sedia, farebbe un sacco di visual. L'ho pagata 8.000 euro sta sedia. Se cado, mi devono pagare le spese sanitarie. Chi? Grazie, George. Tu sei una principessa. Marco, ho fatto così tanta palestra oggi che non finisco più di alzare le braccia. Proprio ormai sei partito, esercizi a casa. Sì, esatto. Woody ha disertato, non gliel'abbiamo chiesto. Mi sento la gare tantissima. Chissà se a Corvo scenderà mai il ping. Corvo, comunque è stato bello a farti webcam in caso... Vero? Non voglio avere un ping. Adesso... Ma in realtà non lo vedo, ma... Cioè, lo vedo come sempre in webcam. Con la disgrazia che ha quella webcam, insomma... E' il ping che è infecchatorio. E' il ping che parte a casa. No, a large non c'è. Adesso sei incredibile. Come? Sei otto di ping. Ebbè, avrà finito. Cosa? Avrà finito di scaricare? Cioè, stava scaricando la mappa Corvo? Eh sì, sicuramente. Eh, prima sì, poi... Allora, per quello. Io sono molto comodo, amici. Certo. Io vi ricordo che... Però, se volete giocare con noi... Cazzo, entrate in sto gioco. Oh! Anche voi. Ma è bello. A me sto gioco piace tanto. Ma il golf è sempre bello. Però da settimana prossima... Ti saranno... Eh... Diventerà chi vuole essere milionario l'appuntamento con... Pescherino. È vero. Allora, io spero che sia un casino quel gioco con tutta la gente. Però, peschere... Ma tanto la gente mica deve parlare o entrare a parlare. No, però... Non so se c'è un limite di numero di gente. È otto. Ah, otto. Ok, perfetto. Madonna, evil. Lo stai tirando fuori. Comunque, sì. Peschiamo un subscriber da settimana prossima, no? E lo picchiamo. Prendiamo botte tutti quanti insieme. Lo prendiamo a legne nel fortissimo. La testate qua. Poi ne peschiamo un altro e giochiamo a chi vuole essere milionario con quello lì. Mi capito? Beh. Mi sembra un ottimo lavoro. Certo che lo è. Ma quanto costa il sui Stangami sto gioco? Magari costa 50 euro. È l'unico motivo per cui uno non dovrebbe comprare questo capolavoro. Cosa? Golfit? Certo. Ma il milione c'è davvero? No. C'è un milione di... No, non vincete niente. La gloria. Magari si vince qualcosa. Non mica l'abbiamo... Non ho saputo che lo sappiamo. 9 euro su Stangami. Il poverino non può legnarti anche lui. 9 euro su Stangami? Che ladrata. Oh sì. 9 euro è un po' tantino. Quanto costava di meno costava? Lo Steam costa 50 centesimi. Sì. A chilo. Infatti costa meno comunque l'altro Golf, effettivamente. L'altro Golf è più... Golf with your friends. Ma lo riporteremo anche quello. Faremo un po' un po'. Il problema di Golf with your friends è che... A parte il sistema di tiro che preferisco questo. E che è iniziato a diventare un po' un cesso. Di hacker, le cose. Roberto ci ha spruzzato con il Ribes. Tra l'altro Esprit va nelle live degli altri e noi mica ci viene a trovare. Io ho l'imbarazzante quel ragazzo lì. Imbarazzante. Ho preso due paranto, l'esprit, guarda. Sono 16.000. Lui due. Lerykan. Cosa fai? Truffi. 16.000. Non truffare? Ok, 16.000. È 8.8. Mettete pro. Ma il Mikann era vero. Ah, era una stupidaggine. Ho letto l'unica stupidaggine, quindi incredibile. Lui che ha fatto la cheater lì. È partita la partita. L'altra era last minute. Amici, siamo pronti per giocare con l'attaccaella. Mi sembra abbastanza chiaro il discorso qui. L'altra era last minute. Roberta, chi vuoi prendere per il suo milionese? Chi vuole essere il milionesimo. Marco, non vedono il gioco. Svetti di appoggiarmelo. Marco, ma qui si sentono le palle che... Ovviamente era una figura un po' becera. Che sbatroccolano. È una figura un po' becera questa qui. Eh sì. Più la mia. Purtroppo mi ero preso bene a... Ho fatto quattro tiri per buttare dentro una balla io. Mi ero preso bene a chiacchierare nella cosa delle situazioni. Sono scomparse le webcam. Io mi sparo, ragazzi. Ma io adesso sto guardando la live e... Ok. Eh, ma le webcam sono scomparse, però, amici. Fammi le modificare. I una. C'è solo l'Eazar adesso. Beh, è già uno, eh. Salute in camera, Jezio. Jezio, salute in camera. Jezio. Ma io qui sotto, tutto appiccicoso, sotto il... Questo sono io. Devo fare uno per uno proprio bene. Non lo so. Cioè, mamma ha dato lo straccio prima, ma con cos'è che ha dato lo straccio? Lo sbun contento, ragazzi, che dobbiamo fare uno per uno. Aspettate che però scade il tempo. Lo metto dentro, intanto. Ecco. Ti dici? Eh, scadeva il tempo, se no. Parvola, aspetta, ma non è possibile che mangi sempre le patatine, tu? Ma perché ho fame. Ho capito, ma io ti vedo sempre mangiare le patatine. Attivamente mangia sempre le patatine, poi. Sei veramente un ciccione, sei? Sono buone, mi piacciono. No. Eh, mi piacciono, certo. Tanto pesa tre euro al chilo. Cosa vuol dire? Cosa vuol dire che pesa tre euro? Una moneta da tre euro. Parca miseria, ho fatto la cazzella. È il metabolismo adelante. Ah, ma non è qui? Oppio. Marco, è un bastardi. Ma Francesca. Arenzo, arbore. Sono perduto di nuovo. Au. Vuole un po' di dolcezza. Dopo piano, invece no. Oh, ma io sono stupido. Marco, ma ce la fai? Eh, devo calibrare la pipa. Marco, ti picchio forte. Ma almeno fendo un paio. No, sono mie. Ma che bella palla quella di Triste Palli. È cromata. Dov'è? È dentro adesso. Non credo ti risponda al saluto, penso, Arbore Vector, purtroppo. Perché non ci segue, però. Esatto, mica peraltro. 5 euro. È uno scioppone, sei. 5 euro. È uno scioppone, Triste Palli. Moro beve. Corvo mangia le patatine. Marche e Glezzar che fanno? Ricrattano le balle. Allora, stiamo facendo. Ma vicenda. Epsilon. Dove vado? Ma che lag che ho visto. È una signorina. Ma che è laggata, Epsilon. L'importante è arrivare. Perché chi va piano lo stanno volontariato. Ma arriva ultimo, comunque. Eh, dopo. Beh, amici. Questo è andato bene, eh. Prontimo. Questo è andato molto bene. Ma che è il pezzente? No, dai. Eagle Piggo l'ho fatto. Quello della foresta dei sogni. Ve lo ricordate? No, perché non me lo ricordo neanche io. Lo guardava mia sorella. Quindi, figurate. Ero già maggiorenne, vaccinato. Ero già osato con i figli. Ma che dice questo? Ma quanto c'è andato male? Ma c'è anche la Franci? Ho visto io. Purtroppo sì. Purtroppo c'è anche Franci. Goal. 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 Campioni del mondo. Campioni. Campioni del mondo. Campioni del cuore. Ma che cacchio. Di questa città. E che è sempre il Napolè. Una maglia. Perché di Gis d'Alessio è la canzone? Ah sì? Sì, ma lo sapevi. No, non mi frega neanche un cazzo. Una maglia, un tricolore da cucire. Non lo sono veramente mai chiesto. Non credo tu abbia mai seguito Campioni per Bene, tra l'altro. No. No, assolutamente no. Io sì, eh. Io lo presumo. Sono andato anche a vederli. No, mi si è staccato il pippo. Sono andato a vederli al Birantia contro il Milan. Ho visto Kakà dal vivo. Cafu. Dida. Shevchenko. C'era Buffon poi che però non c'entrava niente. Era lì come ospite per farlo. Tra l'altro, in quella serata lì, ha intervistato Buffon, Ilaria D'Amico. Che poi, anni dopo, è diventata la sua compagna. Ah. Quindi hanno fatto un buco. Quindi hanno iniziato a lanciare le basi. Ma dov'è la buca qua? Ah, c'è bisogno fare cioffete lì. No, c'è la porta, no? Eh, no, si può fare un po' da l'altra parte. Ah, ho capito, ma io non volevo. Ice, ice, baby. Ma chi è che mi ha stoppato? Quello è caito era, lo ammazzo io, eh. E vai. Marco fa gossip. No, è carino. Però lì, casualmente, io vi ho vinto sempre gossip comunque. Ma sei tu quella, la pettegola, l'hai detto l'altra volta. Però a te le riesci involontariamente, quindi lo sai ancora di più. Sono staccati i pistolini dalla... Come no? E che gossip era? Ho detto che si sono incontrati. Mica ho detto che hanno fatto l'amore quella volta che si sono incontrati. Ma è chiaro che hanno scopato. Ma non è vero, anche perché Buffon era sposato con un'altra persona. Eh, era con la serrima, madonna. Eh, ma non credo che quella volta li avessero consumato. Ma magari hanno anche consumato. Ma non lo so, questo lo stai dicendo tu perché sei una pettegola, moro. Io non l'ha detto nessuno, eh. Mimma per te farei di tutto, anche l'olio. Mi dà un colpettino? Buon olio, moro, tu lo. Scusa, se uno arriva ti regalo un bel bottiglione d'olio. Ma io sono felicissimo. L'olio buonissimo. E infatti... Ma scherzi. Robi Galli. Grazie Robi Galli. Di solito ho rinnovato un fiffo. Ma di sera ragazzi. Allora, facciamo una cosa. Visto che siamo tutti e quattro, tutti e quattro giochiamo a FIFA. No Marco, ba 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 ba. Dove non andare a... Cosa fai a altezza seno della contessa principessa? Che è sempre regina. Quanta dei detti, contessa principessa. Tutte sbagliate. Siamo in quattro giocatori di FIFA. Ci vogliamo mettere degli obiettivi per domani? Seri però. Che siamo tutti qua, se no all'ultimo. Sono i soliti due stronti. All'ultimo, se no ogni volta non sappiamo mai. Il mio serio è fare un gol. Io da un sacco di laghi non faccio gol. Tu non fai gol. E vabbè. Quello personale di Liezer è fare il gol. Ma no, ma l'obiettivo personale. Ma l'obiettivo personale chi se ne fa? Ma Moro, finiremo quelli di squadra. Dobbiamo fare anche i personali dopo un po'. Non dobbiamo modificare. È bello perché se è un gioco di squadra è inutile che c'è l'obiettivo personale. Però ogni tanto... Se io mi metto l'obiettivo di far gol, lo rovino tutte le azioni. Ma tipo a me che mi metti l'obiettivo, che ne so, fai tre assist. Di base li vorrei fare lo stesso. Magari sono più involontari. Può suggerire un obiettivo che è fare gol con tre tocchi di prima. Ma non lo facciamo già ogni tanto. Cioè capita. Non siamo capaci neanche a passare la palla. Passaggio, passaggio. No, no. A Ron non gli tocco niente. Lui è il mastro obiettivi. Gli metterei tre o più però. Non lo limiterei solo a tre. Tre o più. Beh sì. Tre o più passaggi. No, qua è un casino, ragazzi. Dobbiamo fare delle cose particolari. Ve l'ho fatta ma l'ho buttata fuori come un pipetto. Tipo a non beccare cartellini, Mark. Ma a me parli io che c'entro. Quello di averlo mai preso questa... Mark, è Gli Ezra quello che si fa sempre a Speller. Ormai. Quest'anno è un motivo. Quest'anno è Moro. Cioè, Gli Ezra. L'anno scorso era Moro. Ma tipo con il rovesciato di tacco. Anche se c'è da dire che la... Come si dice? Ma che ho fatto? Ho tirato per sbaglio. Il record c'è la Esprit che è l'unica partita in cui ha giocato l'anno scorso. Mi ricordo il video. Ho riso veramente troppo. Ha preso di mira uno. Ha detto, quello è un bastardo. Ha fatto fallo. Ha espulso. La prima partita non ha mai più giocato. Mi ha speso 30 euro per lui. E ha giocato una volta. No, forse mi sa che era la prova gratuita. Non so. Meglio allora, così non mi sento anche in colpa. Ha detto proprio queste precise parole. Ho visto del sex improvviso. Ma non si può girare? Io cosa sto facendo? Non si può girare. No. Troppo Esprit amici. Come sapete ha questo problema che si chiama stupidità. Ah che bel canederli. Dove sono? Sono veramente tanto in basso amici. Che imbarazzo. Sono a un pelo dall'ultimo. Chi è questo? Come si potrebbe... Un obiettivo. Un obiettivo. Allora, vediamo un po'. Beh, io direi di fare un gol di testa. Mi piacerebbe fare un gol di testa. Vincere due partite su quattro con una differenza reti di almeno due. Non è facile. Non è facile. Ci può stare. Non è impossibile. Ti spinge a giocare bene. Non è possibile, ma è anche facile. Però senza musica, ragazzi, questa mappa è tristissima. Ma è per cui hai tolto la musica? Perché a volte c'è il copyright. Ma chi sono i foot? Il copyright di queste musiche di me? Ma non è così difficile. Cioè, ad esempio, la live scorsa... No, non è così difficile. Ti spinge a fare bene. È la successo di fare la live scorsa. L'hai... Ho avuto 5 a 2. No, la live scorsa abbiamo spaccato in culo. Però devono essere due partite con una differenza reti di almeno due o più. Allora, a parte che non l'hai fatta con la partita Vector. Mi ricordo benissimo che ti sei rimasto frizzato e poi sei uscito. Poi che nome era scorsa? Che nome era quello lì? Guardalo come mangia quelle patatine quell'animale. Quante ce ne hai? Fammi vedere. Questo ciccione. Fammi vedere quante ne hai. Il pacchetto era così grosso, però sono arrivato qua. Non ho visto niente. Che patatine sono, scusa? Le squeeze? Sono le tortilla al gusto chili. Sono stra buone. Ah, è buono? Mi piacciono le tortille. Lei ha snack fata. Ecc fata. Ma che inculaggio. Quello potrebbe essere un obiettivo, ovvero fare... E' difficile. E' difficile, ma non così impossibile. E' anche facile da ricordare perché è 2-2. Poi il gol di testa io lo metterei. Infortunare l'avversario senza farmi spellere l'ha fatto Marco la partita scorsa al primo minuto. Se ripreso c'ha anche segnato, mi ricordo. No, però tipo un gol di testa mi piacerebbe, io lo lascerei. Perché non è così facile fare un gol di testa, anzi. E' quella già quella più consecutiva che aveva fatto. Ma è un caso, perché se ti ricordi prima non veniva fatto così. È facilissimo. Poi, cosa potrebbe... Un gol di fuori aria, per esempio. Che poi magari potrebbe essere anche un'arma a doppio taglio, perché magari poi provando, provando, rischi di far caccate. Ovviamente differenzialetti per noi, c'è nel senso, vinte con almeno due gol di scarto. Ma è troppo facile. Vinta con due gol di scarto, ovviamente, sì. Amici, ho fatto Albatross. Io ho fatto cagare. Ma questa cosa... Io riesco a tirare bene. E io ho tirato, ho sbattuto prima ancora di... Tripponi! Ceperoni. Tripponi. Vale, gol di pallonetto è molto situazionale, però. Pasteria. Ma non vedi che sbatto contro qualcosa? Ma alla partenza non dovremmo poterci toccare, però, scusami. Ma Marco, è un gioco di merda. Che botte vi siete dati. E certo, l'unica volta che potevo tirare giusto. Parro. No, infortunare i giocatori no. Non è divertente. Che obiettivi sono infortunare i giocatori avversi... Ma guarda che sfiga, però, eh. Fare gol golando sarebbe il sogno di una vita. Ma impossibile. Quella è stata una cosa di genere. Io lo chiamerei... Cugito, dai, per favore. Quale? Cugito o Cugito. Eh, sarebbe un superpotere che non vorrei avere. Mi sentirei incoltissimo. Eh, fare un gol in cui almeno tutti i giocatori sono passati la palle. Come cazzo lo tieni il conto, però? Eh, è difficile tenere il conto. Perché non è che siamo su YouTube che tieni il conto con l'editing, qua, no. Non saprei come... Ah! L'altro obiettivo molto... Quasi impossibile è che tutti in una live segnano almeno un gol. Tutti. Quello è l'obiettivo costante, però è difficilissimo. Eh, è veramente... Cioè, per me è moro, far gole. E Yook anche. Difficilissimo anche Yook, cioè. Molto difficile. Ma non è così. E' vicino, eh, perché ne mancavano due, ero oltre, però. Ma sì, Xol. Pintella! Questa volta stava succedendo, sì. Sì, però non sono solo quelle cose che ti capitano. L'obiettivo di sempre... È proprio la MOAB. Dai, dai, dai. Dai, dai. Quello rimane... Di FIFA rimane... Io sto facendo veramente vomitare questa sera, nonché le altre sere. Ho fatto un boogie-woogie. Oh, boogie. Devo provare a fare una provata. Bene, ma... Un gol a giro, nel senso che sei girato di dietro e devi tirare... Quello lì ci può stare, secondo me. Dica se ti attacco, quello. No. Che ti giri e tiri. Che viene sempre una merda, di solito. Ah, che... Ostia, quella è tosta. Però ci potrebbe stare. Sì, diciamo così, Gabriele. Ponzio! Ma che cazzo! Ponzio Berdo! Ponzio... P***o. Vola al volo, sì, sì. Anche quello non è male. Vola al volo e... Ah, il tiro ad effetto. Tiro ad effetto l'ho fatto io. Marco, levati, eh. Tutti, levati. Tutti, levati. Io sono quello dietro e ho finito. L'obiettivo è... Un altro obiettivo è non congratularsi mai con Luke. Difficilissimo. Quello va bene per la squadra. Tu lo fai con tutto l'amore, eh? E' possibile chiamare Me Corvo e Korn. Korn. Me, quello la vedo dura. Non posso farcela, quello. Però la vedo dura, Korn. Un gol scartato dal portiere è un po' situazionale, ma potrebbe essere carino. Però poi rischi anche lì di far... È molto situazionale. Perché è capitato che il portiere esce fuori e così. Almeno un gol su punizione, però ce n'è stato uno solo di Marco. L'ho fatto io, ma perché quest'anno è veramente difficilissimo. È veramente difficile. Cioè non è per niente... È proprio completamente diverso dall'anno scorso che hanno fatti... Penso che più della metà di me i gol l'anno scorso hanno fatti la punizione. Cazzo... Quest'anno è proprio un altro lavoro. O se no, l'altra cosa è riuscire a procurarsi almeno due rigori in tutta la live. Credo che non abbiamo mai procurato un rigore noi. No, sì, sì. Poi Luke ha fatto delle faccende che non sto qua a ricordare. Ma che cazzo faccio? No, troppo. Che dolore che ho sentito. Un gol col portiere. Direi di fare un montaggio con tutti i complimenti a Luke e conseguente errore immediato. Ci viene a fare un video di un'ora, ci viene fuori. Bravo Luke, ci sparano dall'alto un centino. Sì, è vero, me lo ricordo. Parare un rigore, però ragazzi, è un obiettivo che in realtà... Ma l'ha fatto Luke? Eh, ma è un obiettivo che è proprio una cosa veramente troppo specifica, che potrebbe non capitare neanche il rigore nella live. Ci sono un po' di live che non capitano rigori contro. Ma l'hai fatto, l'hai fatto, non è che devi. Sì, no. Poi uguale. Non ti sbagli assiduamente, Marco. Proprio sempre. Cazzo che tiro. Sembro del Pietro. Di Pietro sembri, o Carmen. Carmen Alessandro. Alessandro di Pietro, sempre il tuo libro. Alessandro del Pietro. Ma che culo, guarda la cacca. Ma che culo invece. Questa è una pallina dolce. Questa è un'altra pallina di panna. Questo è Moro, che ha il cappello di Albano. Sì. Mi sono toccato la testa perché pensavo di avere il cappello di Albano. Ho usato i cappelli perché ho un ciuffo. Quando abbiamo fatto... Ma allora, Evil, le guardi le partite di FIFA o... Perché guarda che abbiamo fatto dei gol veramente belli. Cioè, io gioco a FIFA da tanti anni. A parte di assicurare che abbiamo fatto dei gol bellissimi. Poi a volte facciamo anche le... Non sai giocare al calcio tutto. Ormai con la culo sono veramente... Io sono allenatore, sono. Facciamo veramente dei bei gol spesso. Che purtroppo non siamo... Ci sono dei team che sono veramente tanto forti a livello proprio anche di organizzazione della... Cioè, sono tutti forti e tutti giocavano a... Come avevo in one, Cugito? Come ha fatto? Ma perché sono tornato qua? Ti avevo promesso. Artorias, grazie. Grazie a tors. Quanto, per quanto. E anche scegli tu, eh? E anche scegli tu che è convertito. Ah no, è convertito la buona. Le capisze per cortesia potresti... Grazie lo stesso. Grazie. Torniamo qua. Direi che... Tu vuole. Salve. Come non certo era per proporre una sfida. Se dici che abbiamo fatto con la churla... A me pensavo di essere il primo. Invece sono qua. Ci fermeremo mai? Ah, giocando con la tastiera no. Ah, perché? Che figura becero. Perché sotto di noi la sfida. Perché dovremmo stare a imparare a giocare con la tastiera... A saperlo prima, ragazzi. Un sacco di live. Per farlo. Che figura, ragazzi. Moro, portiere per una partita non deve prendere neanche un gol. È già successo. È già successo. No, forno so se non aveva preso neanche un gol o solo uno. Cosa è successo? Altered Carbon l'ha visto solo... Non è quella la buca. È anch'io ci ho provato per un po' all'inizio. È sotto di noi la buca, sì. Però... Non ho visto la seconda stagione però di Altered Carbon. Qua non può stare, mi sa. Ma che lag? Eh, ma anche... Anche prima laggava. Può vedere il ping da... No, ma credo sia colpa del PC. Può essere. Che non le riesce. Adesso siamo nella buca giusta. Excellent. No, corvo, cazzo, work. L'ho buttato in culo. Oddio se lo facevo, ragazzi. La prima stagione mi è piaciuta un sacco. La seconda stagione l'ho iniziata, ma mi sono abboffato i coglioni dopo un po', ma semplicemente perché non c'avevo voglia. Non perché è brutta. Cioè, non so neanche se è brutta perché appunto non è... Buono. Buono, non c'avevo voglia. No, troppo corto. Albatross. 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 Pipi duri. Pipi duri. Pipi duri. Leggo quicito. Non c'è pure faccia. No, preoccupi. Molto bravo, Franci. Ma sex. American Express. Vai lì. Sex love. Porto, ma porca miseria. suolis Ida fifa gold a fuori area oltre la lunetta ma fuori area si potrebbe fare Una partita senza dire i nomi di persone famose Ma che tiro di merda perché non riesco però secondo me ci stanno anche questi obiettivi 23 mesi Sicuramente è partito la forse mettono black widow su disney plus sì perché non C'è altro modo di sistemare le uscite del cinema quindi penso che direttamente su disney e l'hanno fatto anche con l'illie vagabondo L'hanno fatto con il film d'animazione quello di quanto molla meglio farlo uscire tipo Usare No da comprare sì Magari vogliono spammare disney plus in modo che lo fanno tutti però è comunque tanto ci perdi ci perdi un casino comunque che lo dovrebbero mettere a Noleggio su disney plus piuttosto Magari fanno così è ma non credo esista come funziona su disney plus Ce l'hanno tutti e tanti siti ce l'hanno magari fanno una roba del genere la introducono Anche perché Allora lì vagabondo e l'altro sono disponibili nel catalogo se non devi pagare nulla Io sono veramente un disgraziato grazie corvo ti voglio tanto bene Lì le vagabondo credo fosse pensato già per disney plus non sono sicuro però mi fido di voi se mette di sì perché io non C'è da dire che quando l'hanno fatto in effetti avevano già annunciato mi sembra per disney plus Sì sì no no mi fido ci mancherebbe Però black widow è un film che potenzialmente potrebbe fare un miliardino Poteva arrivare a fare un miliardino di vendite Potenzialmente sì Quindi è comunque una grossa perdita Anche perché comunque i film dell'MCU adesso magari black widow non come altri Ma anche per un costo per farli Anche perché c'è disney cazzo Disney plus lo paghi una volta E' vero che i soldi poi quelli lì vanno tutti a disney in teoria Quindi ci guadagnano più che un biglietto del cinema Eh ho capito però al cinema mandi un miliardo di persone che magari a volte neanche Costa 8 euro disney plus Non è vero costa 6 No Costa 7,99 Costa 7,99 Sì ma comunque uno che Cioè al cinema arriva più range di persone Sì 10 euro ma si prende la loro parte il cinema Non è che prendono Sì proprio Dira che si prova molto Del film immagino di 10 euro si prenderà 2 euro la casa di produzione del film Mentre così la disney si ciula tutto Lei tra virgolette Perché vabbè poi ci sono tutte le spese anche lì naturalmente Ma sì i server piuttosto che quella roba lì Eh ma secondo me vanno in perdissima comunque Cioè come gliela metti la metti o ci vanno in perdissima La parte veramente minima Sì però poi c'è anche la CIA Però ci deve pagare le spese La CIA E tutto ci deve pagare Però vuoi mettere Ormai possono solo limitare i danni Perché ormai No sai cos'è? E la disney potrebbe risparmiare Penso almeno un 50 milioni Sul marketing Come fa a prenderci il restante Ho sbloccato un coso di E come ha vinto? Franci ha vinto Ma di cosa stiamo parlando ragazzi? Anche l'altra volta Dov'è? Grazie E il pollo diablo Grazie mille per i 21 mesi Grazie mille Io lo trovo imbarazzante questa cosa Salve e buonasera Soprattutto a essere il bianco Grazie Adesso in questo momento è l'avatar di Karim del 2011 Considerate che molti si fanno anche la settimana gratis Vedono il film e poi amen Beh non so per quanto la lasceranno Comunque la settimana gratis Cioè ne può fare una volta solo Il cinema guadagnano il 90% tramite i bar Sui biglietti guadagnano solo sui film vecchi Dove il distributore si prende meno perché ha già dato Che merda Beh per quello che le cose al bar costano un sacco Sì ma scusami Però se io vado a Lucci Pago il biglietto di Black Widow 11 euro Se vado al cinema qua del paese Lo pago 6 euro Se vai di giovedì lo paghi 6 euro Se lo vai di sabato lo paghi 10 Quindi scusami La casa produttrice Prende il 100% La casa produttrice Ha detto va tutto alla casa produttrice Tutto tutto non avrebbe senso Non lo so Ha detto che ci ha lavorato Anche perché credo che ci sono altre spese Oltre al cinema Con quello che gli rimane Devono pagare le spese del cinema E guadagnano il 90% tramite il bar L'ho ricreata Sempre stessa passo Rientrate anche gli stessi Spesso fanno così Non c'è limite di posto qua Vedo la stanza Non mi da unisciti alla partita No neanche a me Aspetta perché l'ho creata adesso Ah ok Ho sbagliato Ho fatto una caccata Sta uscendo la pappa Comunque la mettono Purtroppo ci vanno a perdere ormai Per i costi che ha avuto il film Però Puoi magari limitargli un pelo Con delle manovre particolari Non lo so Oppure semplicemente ormai dicono Vabbè amen Pure se ci perdiamo un pochino Se il lancio di Disney Plus Lo spammiamo così Mettiamo dei filmoni Così la gente Si fa l'annuale Vedi già il fatto di aver 114 Già il fatto di aver fatto La cosa annuale Con lo sconto annuale Ha spinto la gente A non farsi un mese O sette giorni O quante è Sette giorni O quant'è O un mesetto E di farsi direttamente l'annuale Spinto proprio dal fatto Che paga di meno E già è un modo Per accalapiarti un po' di pubblico Poi ovviamente Se nel corso dell'anno Tu non Non metti roba Affinché uno rimanga Se ne vanno via Ti fanno solo un anno Ma lì poi sta a te Disney Plus Mettere contenuti Perché appunto Tra serie Marvel Star Wars Film Serie che adesso Forse si parla di X-Files Buffy Roba che non trovi Da nessuna parte Da nessuna parte Quindi insomma Ma infatti dicevo Insieme alle novità Accompagni Rewatch Roba nuova Roba nuova C'ho le serie Marvel I film E questo Calma Adesso non me lo ricordo nemmeno Magari le han già dette le date Adesso non mi ricordo Molte serie tv Devono ancora girarle Cioè serie nuove Però se tu mi accompagni Le novità Con i Rewatch vecchi Che però non trovi Da nessun'altra parte Tipo appunto Buffy O serie che non c'ha Nessun altro La gente te lo fa a Disney Plus Soprattutto adesso che a casa Non sono d'accordo Secondo me no Vorrei perché no È un conto a te che sei Strafan della Disney Ma devi essere così strafana Cioè Buffy e X-Files Sono serie storiche Non è che devi essere fan Della Disney E Uno non si fa Non si fa Non è uscito Per X-Files e Buffy Ma non è vero Moro C'è gente che lo faccia C'è gente che si è fatto infiniti Solo per rivedersi Chuck Perché era solo lì Esatto Grazie Tiago Grazie Tiago Grazie mille per i sette mesi Grazie Funziona esattamente così Moro Ti mettono Di una mano di corpo Guarda che funziona esattamente così Loro ti mettono queste serie A parte che su X-Files Non c'era già su Infiniti Magari c'era anche da un'altra parte Però se te lo mettono lì Insieme ad altre cose Uno dice faccio direttamente quello X-Files e non era della Fox Quindi è della Disney Adesso ma Ok parliamo di Disney Ma Moro Ma c'è tutto Alla mondo Fox Non è vero Non c'è niente della Fox Su Eh vabbè ho capito Ci sono i Simpson Che sono della Fox E non capisco Cosa pretendevi di avere tutto subito Ricordo Però anche non mettermi niente all'inizio Ma non puoi dire che non c'è niente Eh ostia C'è solo Mandalorian Come serie vera Cioè Eh ma perché nuove le stanno ancora girando Eh ma appunto Non c'è niente di programmato Per i prossimi mesi Sì No no ci sono E che adesso Non mi ricordo le date Io non te lo so dire Così su due piedi Ma Eh tutte quelle Marvel Devono uscire Ma quindi le hanno già annunciate le date È quello che sto chiedendo Perché non ho capito Cioè prima ho chiesto Ma le date sanno Mi pare che i periodi Li abbiano già detti Ora le date Ora non so neanche col Covid Come funziona E infatti Questa è un'altra cosa Che poi Quella è una cosa extra Perché molte serie tv L'hanno interrotte Di registrarle Perché Lo posso Mandalorian è veramente bellissimo Come nome Vector Cioè Secondo me Disney Plus Potenzialmente Può mettere tanta roba Cioè c'è quello Ho capito Ci sono una marea di film Della Disney Di essere rifatti E posta anche per Nel senso Quali usciti sono su Disney Plus Ce ne sono già alcuni nuovi Secondo me Devono essere bravi A oltre a inserire Queste chicche vecchie Che la gente si può riguardare O guardare per la prima volta E sfruttano il fatto Di avere Disney Plus Per scegliere Disney Plus Al posto di altre piattaforme Ovviamente Devi accompagnare Cioè Devi mettere cose che Sono originali Inedite E stai facendo solo tu Ma penso che il tempo Ci darà ragione O no Cioè Penso che dipende Un po' come Anche perché appunto Sono capitati Anche in un periodo Dove Tipo Prime Video e Netflix Non hanno avuto di mezzo il Covid Si hanno avuto anche un po' Di sfortuna in questo senso Perché ovviamente Tutte le produzioni Sono ferme Tutte le serie Che stavano andando Sono ferme Ad agosto Ad agosto dovrebbe uscire Falcon E Winter Soldier Sempre che riescano a finirla Poi Poi chiaramente Se a te non ti interessano Quello Cioè tipo Te mi puoi dire A me non interessano Per me è inutile E quello è sacrosanto Perché se a te non ti frega niente Ovviamente È una cosa molto personale Su Netflix Non c'è niente che mi interessa L'ho distetto Anche Infinity Per dire Quanta gente si è fatta Infinity Solo perché The Big Ben Theory E Young Sheldon Che sono seguitissimi Sono solo lì Io per esempio Esatto Allora il limite di Disney Plus È il limite che ha solo Disney Il problema è che Disney È più di metà del mercato Che c'è nel mondo Quindi La fine Tipo invece Tutta una roba della Fox Arriverà Penso che tanti Il problema è che Ufficialmente L'hanno acquisita tre mesi fa Allora Secondo me devono Intanto avere tempo Per acquisire gli archivi E robe del genere E poi Probabilmente alcune cose Hanno ancora i diritti In altre piattaforme Esattamente Quindi non aspettare che scadano E poi Esattamente E poi Da quello che avevo letto Ufficialmente la Disney Ha acquisito Fox A fine dell'anno scorso E poi dicevamo L'altra volta Tutte le robe della Marvel Che ci sono su Netflix Si inculla Quelle lì Non le vedranno male E se sono a produzione da Netflix Rimangono là E infatti A meno che Li comprerà diritti Non so Quelli come funziona Bisognerà vedere I diritti sono già loro Perché però La produzione Che schifo ragazzi Non possiamo farci niente Probabilmente si prenderanno I diritti della produzione Si parlava Tempo fa Che Entreranno Nell'MCU Quelli della Delle serie tipo Daredevil Roba così Invece non è possibile No no Si è possibile Come no Perché si compri Il personaggio è tuo Poi la serie Tanto è finita Basta La serie non c'è più Quindi No Non è vero Cioè i diritti Di Daredevil Il tuo Ma i diritti Di Daredevil Con Cox Non sono della Disney No 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 Netflix Ma non credo funzioni Proprio così No credo che Netflix Abbia comprato La possibilità Adesso nel dettaglio Non mi ricordo L'avevo letto Esatto Adesso nei dettagli Non mi ricordo Però la serie È un'altra cosa Cioè se lui Dovesse fare Un'apparizione Nell'MCU È un altro discorso Quindi potrebbe La serie tv Non arriverà mai Su Disney Plus A meno che Però possono usare Gli stessi A meno che Non gliela compri Se gliela compri Possono effettivamente Tipo fare anche una Non so quante stagioni Sono uscito La quarta stagione Di Daredevil Ma che cazzo È la C4 Beh in teoria Si Se comprano Cioè Non so Però quella roba lì Favrebbe veramente Cagare Conoscendo i Disney Vedendo come ha fatto Con Star Wars Resetterà tutto Quello di Daredevil Ricomincerà da capo Quindi non farà Non ha senso neanche usare No no Quello non lo farà mai Lielo Eh ma hanno detto Cosa rinizia a fare Cioè poi dipende Come rinizia Per carità Grazie Benvenuto Grazie Metti che lo schiocco Di dita di Thanos Magari usano lo schiocco Di dita per cambiare Tutta la storia di Daredevil Per dire Potrebbero usare Queste cose qua Adesso mi erano Modificati di nuovo Che potrebbe essere O una stupidaggine incredibile O se te la gestisci bene Una genialata Dipende poi come Disney Non lo so Allora quello che fa Io la fiducia a Disney Gliela do perché a me Sta piacendo come servizio Di stimolo In generale come si sta muovendo Per un buon lavoro Io in realtà Fortunatamente è andato anche In Star Wars Io posto in game In realtà ho molta paura Per la fase 4 Però l'ho già detto Con paura Eccetera Che possono fare cacate Saffire Grazie Saffire Fortunatamente è andato Anche in Star Wars Con l'idea Della Marvel Almeno Puisse gestire pure Quello Ma che stronzo Mi ha deviato l'anno Eh ma scegli tu Guarda che è possibile Cioè alla fine Lo schiocco di dita È una scusa Per fare varie cose Effettivamente è la scusa Per fare un sacco di robot Ovvio che è una scusa Perché è una scusa Perché No Non credo fosse programmato Ma mica vanno indietro nel tempo Con lo schiocco di dita No Semplicemente possono magari Cambiare delle cose E dare un nuovo inizio A Ma l'ho pensato io Non ha detto niente È una mia pura ipotesi Vabbè un nuovo inizio Lo puoi dare Però quello che è successo Dai un nuovo inizio Ovviamente il personaggio C'è co Daredevil Per come Daredevil È diventato Daredevil Per tutte le esperienze Che ha vissuto Poi ovviamente Vai a capire Da quello che ho capito Kevin Fage Quello Che ha fatto tutto l'MCU Da quello che ho capito È entrato nel mondo Di Star Wars Sì 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 Creerà lui tutto il filore Di Star Wars Da adesso in poi Quindi Già si parla di Chris Evans E Brie Larson Nel caso di Star Wars Sì Loro vogliono partecipare Esatto Loro vorrebbero Però bisogna vedere Se glielo lascia fare Tanto adesso cambia tutto Quindi Teoricamente Che sex Beh come non so come si legge Però quello lì Non si sa se faranno trilogie Perché da quello che ho capito Faranno tutti Ma non credo si dica Feige Che mi freno ogni volta Però Che sia Io ho sempre sentito dire Kevin Feige Però non so No O Feige al massimo Ma Feige Non ho mai sentito Che è Magari Scusa È tedesco Io continuo ad essere fermo qui Cosa succede Si legge Feige Uno dei cittadini di Star Wars È quello Quello di Iron Man È quello che ha fatto Mandalorian E infatti Mandalorian è venuta qui A Mandalir Per ora Poi vediamo la seconda stagione Ma io non ci credo Io come ho sempre detto Gli ultimi Star Wars A me sono comunque piaciuti Ma ammetto che effettivamente Hanno un sacco di problemi Non sono né così brutti Ma ammetto che hanno un sacco di problemi Io spero che almeno Chiamando quelli della Marvel Creano un filone tutto unito A proposito di cose brutte amici Sono uscite le prime recensioni Di Resident Evil 3 Dura sei ore Dura tra le cinque e le sei ore Ma io non ho giocato neanche il Dr. House 31 mesi Grazie bello Quindi va bene Quello lì non mi spaventa Franci vedo che è tornata I suoi classici standard Come voto gli hanno dato sette e mezzo Che sette e mezzo Vuol dire E quello basta Vuol dire che è una merda Di diarrea Protonica Cacarellante Vuol dire sette e mezzo Nei voti da scuola Amici lo scoprete In live tutti insieme Vuol dire quattro E lo faremo Al day one Quello Nella live notturna Di venerdì Che è proprio il day one Mamma che tiro che ho fatto Mamma che tiro che ho fatto No infatti ci sono bei film di Star Wars No no non sto scrivendo Però Di trama hanno un sacco di Non so se sette e mezzo Delle riviste del giorno d'oggi Vuol dire Vuol dire Determinati i voti Perché se no Non gli danno più gioco Mi sembra una cazzata Guardi Mi sembra veramente Un'accusa incredibile Dai Cosa? No no ma è vero È vero Guarda che più volte Hanno detto queste cose Molti danno Alzano Ho capito Ma scusami Ma infatti io i giornali Prendo come li prendono Nel senso Ormai No nel senso Come hai detto tu Devi tutto gestirlo In base a com'è La loro testa Ovvero Se è sette Vuol dire che è cinque Se è otto Vuol dire che È sufficiente Infatti il malcrossing Continuando a giocare Poi è una merda C'è delle scelte di gioco Veramente Terribili Oppure semplicemente Non bisogna leggere solo il voto Ma leggere bene La recensione Per me è fantastico Ma è fantastico Però c'è delle robe Che sono terribili Però davvero Ma le recensioni Possono essere lette La recensione Ma leggerle bene C'è leggerla tutta E non solo un voto Ma porca Texi Fammi nella buca qui Non va bene lo stesso No Potremmo tenere attraverso Dalla porta Ma Lo fanno anche per gli youtuber Figuratevi Per le riviste C'è anche quella Credo che per gli youtuber Un pochino più Cioè almeno Noi Che ci siamo dentro E l'ho finito ed è molto bello Per gli youtuber Siamo molto più Ma che figura del cazzo Liberi Cioè di solito Quando danno le chiavi a noi youtuber Non danno mai limitazioni E' difficile Che ti danno limitazioni E ti dicono di parlarne bene Eh ma è una portata diversa E' un pubblico diverso Sempre male No ma era uscita quella notizia Tempo fa Non mi ricordo su che cosa Che dovevi per forza parlarne bene Tutti ne parlavano bene Anche se non Poi magari avete delle persone Tipo magari gente che segue noi Si fila del nostro giudizio E va benissimo così Però dovete anche farvi Il callo voi Perché ormai Si sa Io posso tranquillamente dire Io vi sveglio Faccio la recensione Di Animal Crossing E dico che è una merda E si lo sa GTA non giocavi più No adesso no Grazie lo dico io Ok beh fa carcare i miei giochi E' normale Dovete anche valutare La opinione Che cosa? No dico GTA Lo fai ogni tanto tu Ma noi come gruppo Non lo stiamo facendo Ho portato il single player Così per vedere Per vivere la vita locca Del single player Ormai devo annunciare GTA 6 No no ma infatti Ma allora Partiamo dal presupposto Che non sono tutti così giornalisti Eh perché Ci sono dei giornalisti Di cui io mi fido molto Quindi non era Non era tutta l'erba un faccio Ci mancherebbe Perché in Don Cam Gli avevano dato 10 Si Ci sono degli episodi Che ti fanno dire Ok di questa testata O di questo giornalista Non mi fido più Ci sono altri Di cui mi fido di più E quando vedo che fanno Quando fanno Poi magari abbiamo gusti diversi Perché magari a me un gioco piace A lui no Però mi fido E capi Vedo che prova A essere oggettivo E mi piace Magari seguo solo lui Altri Altre testate giornalistiche Che danno 10 a Kingdom Come Appunto E dico Ma forse sono Ubriachi Può essere no O magari hanno visto cose Che io non ho visto Sono stati più bravi di me Non lo so Ex Marca miseria No troppo lungo Dall'altro io ce l'ho Su Epic Games Kingdom Come Ce l'ho anch'io Sì Volevo provarlo Solo che non c'ho Un modo Non ho capito Effettivamente le recensioni Erano altissime Su quel gioco Quando era uscito Non capisco Come Avranno fatto Dargli E Vector Esatto E' un po' come Take Down Di quei giochi lì Cioè tipo La serie di Quei 2 show server E' andata La serie di Quei 2 show server E' andata benissimo Perché Perché I difetti del gioco Sono diventati Un punto di forza Dei video E del loro commentary E un sacco di gente L'ha comprato Anche chi non compre Quella serie lì E' andato gratis Su Epic Games Però Però Peggle è un giochino Delle balle Però è bello E' fatto bene Non ha niente di sbagliato Ha dato valutazione A chi non compre Prima di giocarlo E come l'hanno valutato Scusa Erano state un sacco Di riviste Che avevano E infatti Quello Tutti lo reputavano Il gioco Ma è Oicek Tutto a posto Tutto sono Crollato Oicek Non so Fermo qua Da un po' Magari Magari Poi c'è Poi c'è Poi c'è Poi c'è Mi era piaciuta La copertina Può essere Magari Ha votato La copertina No però Era bella Un bel guerriero Agli youtuber Che danno le chiavi Solitamente Gli le danno Comunque Cioè che ne parlino Male o bene L'importante È che ne parli Esatto Esatto Ma più che altro Perché Ma penso Ci sia anche una sorta Di fiducia No In realtà no È il contrario Perché molte case Danno le chiavi così Invece poi dopo Ci sono anche Quelle più serie Che infatti Non te le danno Le chiavi Ci sta Ci sta E più che altro Perché ancora viviamo Nella merda Di youtuber Merda Quindi è difficile E alcuni Sì Ma no Mi hanno Ma dai Io ero perfetto Mi hanno buttato via Ma sexy Penis Però Io penso Si stanno anche Un pochino Svegliando Le case Cioè Le agenzie Di marketing Delle case Produttrice Di giochi Ma che cazzo Ti sto spawnando E continuo a essere Buttato di sotto Perché comunque Li vedi Cioè le case Produttrice Tipo Che ne so Capcom Ci chiama Chiama la nostra agenzia Roba così Ci si mette d'accordo Con i vari talent Noi eravamo diventati Best friend Con Bandai Namco E appunto Si crea un rapporto A Dragon Ball È bello Non per questo E il gioco Te lo danno Se sanno Che potrebbe piacerti Anche All'agenzia Chiedono Allora Deve uscire questo gioco Lo dobbiamo far pubblicizzare Dai vostri talent Su Twitch Chi ci consigliate Ci dicono A chi è che piace Doom Guarda Noi abbiamo detto Esatto A noi fa A tutti Noi qui Dei Termos Quindi Magari ci facevamo Anche due visualizzatori In più Durante una live Però ci fa schifo a tutti E che poi Se avessi portato Doom Ne avrei parlato anche bene Perché Doom In realtà È fighissimo Come gioco Mi fa cagare a me Esatto Mentre se mi dai un gioco Di merda Che è di merda Io te lo porto Ma Loro lo sanno benissimo Che i difetti Te li faccio vedere Magari mi dicono Non so fermartici troppo Perché c'è capitato Con Eh a me era successo Non dico il gioco Ma tipo a me Mi hanno fatto rimontare Un video Per una scena Che paura Avevo registrato Un video con Con Carime Gatto Mi pare Non vi dico il gioco Non vi dico niente Ma Monto il video Glielo mando Mi fanno Tutto a po' Tutto bello Tutto divertente Ma c'è questa scena Che devi toglierlo Perché avevo fatto Una gag su un glitch E mi hanno fatto E mi hanno fatto rimontare Il video Perché si vedeva un glitch E non volevano Che si vedesse un glitch Quello ci può stare Perché vabbè Non vuoi che nel tuo gioco Si vedano Si vedano glitch E va bene Che lo trovo comunque bruttino Però ci sta Perché comunque Loro ti danno da Da pubblicizzare un gioco E te Gli fai vedere Le robe brutte del gioco Si sta che non siano Troppo contenti Che sono Cioè più che altro Sono robe anche bypassabili E robe così E dice ok Però sei uno stronzo Scusami No bra No Guarda che il gioco Di Magalli Nudi Gli ho fatto fare solo Che qualche soldo in più Probabilmente gli ho fatto fare Solo che qualche soldo in più Qui dei Magalli Nudi Che non si chiama Continua a non chiamarsi Qui si chiama Cargo The Quest for Gravity Questo gioco fa cagare invece Cargo The Quest for Gravity Che schifo fa Che tra l'altro Più che Magalli Nudi Adesso che l'ho visto recentemente Sembrano un po' Pinko-Panko e Panko-Pinko Di Alice Men of Medane Tra l'altro deve uscire il seguito Non ti vedo Faremo anche quello Men of Medane Ci siamo tanto divertiti Io non vedo l'ora Di rifarlo tra di noi Men of Medane Era piaciuto un sacco Anche il like Perfetto L'abbiamo fatto tutti All in one qua Non è che abbiamo fatto Ste grandi roba A parte che Guarda Maledetto me Che l'ho fatto nella notturna Until dawn Anche quello Perché sarebbe stato Da fare assolutamente Io l'avevo già visto tutto Avevo già tutto Avevo visto anche Gli altri finali E tutto Eh ma non è la stessa cosa Che Men of Medane Era la prima botta Ok Ma secondo me Veniva fuori Carino lo stesso Quello sicuro Quello sicuro Non era la stessa cosa Per me personalmente Perché So già tutto Non è divertente È diverso Sicuramente La porca Fox Come i calzini Fox Ma guarda Mi sono fatto più risate Con Men of Medane Anche se come gioco Di per sé Sì è meglio Until dawn Ma che ho fatto Che premo Beh Dai Di che cosa scusa Until dawn Non è così brutto È una thrashata Però è divertente È un bel gioco È quel genere È un bel gioco Perché È un team Trash Horror Era proprio Bello Per essere bello A Way Out Ci hanno divertito Ed era anche bello Proprio Era proprio figo È una delle mie serie Preferite che abbiamo fatto A Way Out Anche per me C'era Amimale C'era I Demplanettiere Che a me piace Sì Quello era proprio Bello Era Ma l'ha fatto proprio bene Il gioco Sì sì Proprio divertente Tutto Era proprio Una bella storia Anche divertente Un bel Ce ne fossero giochi così Guarda A giocare insieme In quella maniera Ma perché Cioè Men of the Dead Non c'ha il multiplayer L'abbiamo giocato insieme Ma a te Che ti interessa Giochi di più al cellulare Per Android IOS Ci sono Non mi interessa Lara Croft Go Non è male Monument Valley Non è male È molto Molto fio Interesso È il POC Anche io Spero che il concept Di A Way Out Venga riportato Anche io tantissimo Allora Ricordiamo Che il tizio Alle tre È quello che Ha fatto Fuck the Oscars Fuck the Oscars E poi è ritornato Io non lo conosco Monument Valley L'ho già sentito Però se lo vedo Sicuramente So cos'è È un gioco mobile Molto carino Ma sicuramente L'ho già beccato Da qualche parte Sì È morto Subito No subito No Però era morto Abbastanza Ho sbagliato Un pulsante Crack morto Dopo milioni di Salvataggi Incredibile È morto Super Un pulsante È stato terribile Quello lì È un man of medan Beyond 2 and Evil Io il primo Sono tuttora un gran fan Avevo una meccanica di gioco Che mi piaceva un sacco Devi scattare le foto A tutti i mostri Che vedevi in giro Era bellissimo E nel 2 ci spero un sacco Quando è Non mi ricordo Anche lì Per chi è nuovo Di questo canale Per chi è arrivato Negli ultimi 2-3 mesetti Che ho visto Che c'era un sacco Di gente nuova Vi consiglio Di andare A recuperare Tutta la serie Di Man of Medan Dura Tipo 5 ore Anche a Way Out 4-5 live Anche a Way Out È molto bello A Way Out E Man of Medan Recuperatevele Perché sono bellissime Le trovate nel canale YouTube Quelli che ha linkato Giorgia C'è il canale YouTube Delle live Giorgia e Solfix Esatto Scusa infatti Mi chiamo sempre Giorgia Ma i Solfix in chat Non credo di averla mai chiamata Solfix In vita mia Più che altro per quello Nel canale delle live Lì avete tutto L'archivio Basta cercare le playlist Perché c'era molto Cercare tutte le live È lunga Basta andare sulle playlist C'è l'elenco dei giochi C'è la playlist Di Man of Medan È giusto qui A Way Out Non credo E io ve le Anche se l'avete vista Da riguardare Secondo me A Way Out È un capolabolo No? È vabbè No sì Però è messoci E che i titoli Giustamente li mettiamo Sempre di merda Anche per le serie Eh ma tranquilli Tanto c'è proprio La serie C'è la playlist Si chiama Man of Medan Le vanno chiamate Tipo L'uovo di Medan Mi ci sono un po' Troppo Bici Ti confermo La frittata di Medan Roba così Non c'è Un cazzo Io chiedo scusa Per questa disgrazia Non c'è Se non ci sono Comunque subito dopo la live Facciamo subito La playlist Scusate amici Dove devo andare Ma sto andando ovunque Marco devi tirare piano Devi tirare piano Ma dove devo andare a destra Io sto tirando dall'altra parte della mappa Ed ero vicino alla buca Allora Men of Medan Sono un altro Una sbagliata Dietro Dico A Way Out No Marco bastardo Ok c'è anche A Way Out Sono 5 live Eh io non era tanto Sono 4 e 5 Ma sai che non mi ricordo il nostro finale No Del Space Train Cop Ce l'hanno provato Ma non l'abbiamo mai finito Non mi ricordo Il finale che abbiamo fatto noi In modo A Way Out Non me lo ricordo Uno dei due era morto Solo Forse Spoiler scusa No non mi ricordo Ve l'ho detto Alla fine sono esplosi Hanno ricarciato uno Perché aveva iniziato a spacciare la droga Tanto non me lo ricordo amici Quindi non è spoiler Non me lo ricordo Ho sparato a caso Poverò caso Comunque Dove cazzo è la maduca Qui sopra Beh qualche morto ci sarà stato dai Penso E' una bomba che esplode No no Ora Che culo Ma che peffa Che cazzo Ho fatto buca al pelo io Ma mi ha risettato tutto Amici io non so Probabilmente Non era l'acqua Perché la mia bocca Io l'ho finita ore fa No il nasone ce l'aveva Io No ce l'avevo io il nasone Non mi ricordo più Neanche quello Mi ricordo chi ero dei due Ma chi sei tu adesso? Ero quello con il vampire Vampyr non va bene Però nel notturno Ero io quello con il nasone Ero io Vampyr io l'ho giocato tutto E mi è piaciuto un sacco Ma è veramente una rottura Di coglioni Oh io il primo tra di noi Per il terzo arma Vampyr io vorrei giocarlo Appena lo trovo a poco Sulla switch me lo prendo Vampyr è tutto dialoghi Tutto dialoghi Dialoghi su dialoghi Amici io vi chiedo Sì Ho giocato veramente male Marco sì Quindi quittiamo? Eh No non c'era un bompato Erano uguali Era Beh era più Il nasone era più snello Io ero Io Jackman Lì quello che Un po' gli eridava Di io Jackman Non era vero C'ho i capelli Terribilmente Lunghi Aspettate che metto Questa situazione Ma chiacchieriamo Gli ultimi 5 minuti ormai Oh sì Io sto No Questa sera A me ci va così I miei capelli Alla fine Mi raserò Domani Ma A me non sembra così brutto C'erano delle meccaniche dure C'erano delle meccaniche molto dure A me c'è stato un sacco Però Da vedere in live Sono tutti dialoghi Ragazzi Non è Non lo so Tonaz Vediamo Non è assolutamente Da live E' un po' che lo voglio Iniziare Xenoblade E che adesso Con Animal Crossing La mia forza vitale Per i videogiochi E' tutta lì Se devo mettermi a giocare Adesso mi viene da giocare Ad Animal Crossing Ho mollato anche Football Manager Che c'avevo Un botto di ore Mi stava prendendo benissimo Perché sto dedicando La mia vita A vivere Per finta lì E' proprio bello Ed è un gioco Un po' che ci devi stare Dietro tutti i giorni Quindi Quindi è normale Che adesso Sono peso con quello Ma io vorrei Appunto Rivorrei un gioco Alla Until Dawn E Man of Medan Perché C'ho una web Che ha anche fatto La scia Ma fare Con la Detroit Non è Come No Non c'entra Assolutamente niente A me non è piaciuto Tra l'altro Detroit E' come Coso E' come Ivy Rain O Beyond Souls No Detroit A me non ha dato Invece proprio Until Dawn Man of Medan Sono praticamente Dei film interattivi Nel gruppo Telegram Alcuni stanno scrivendo Che non va più Twitch Allora Adesso mi dà In caricamento perenne No Michele Io lo gioco da Ce n'ho tre Di Animal Crossing Questo è il terzo Quindi Può essere E' infaticato Ho scritto Di che cosa Scusate Noi che siamo In live Va ancora Credo E io Guardando la live A me la Ma perché A me sta caricando La chat Ma il video Mi sta bafferando In continuazione Vedo tutto nero Non so perché Non so se ci stanno sentendo Ho aperto Ho aperto la home di Twitch E non c'è neanche la home Non c'è User join your channel Buonasera Non c'è la home di Twitch Anche a voi Non va una madonna A me va Stanno scrivendo Nel gruppo sub Che alcuni non riescono A vederlo Però in chat scrivono Io ho aperto la home di Twitch E manca la home E noi infatti Ho notato anche io Che mancava tipo tutto Io ho aperto la live E leggo la chat Ma il video Non me lo carica Ma lo sta bafferando In interno Aspetta adesso a me No Un refresh va Un refresh non va No Neanche dall'app di Twitch No allora A me va tranquillo In realtà Però Aspetta vediamo se gatto Ti vedo No era per capire Se era un problema mio No non è un problema tuo Quello è poco ma sicuro Spero che qualcuno mi veda Stanno facendo gli slot Nell'album Voi in chat ci state sentendo Amici a sto punto Vi mandiamo da gatto E vediamo un attimino No vabbè tranquilli Non volevo Eh ma tanto saremo arrivati a breve Saremo arrivati a breve Perché abbiamo già finito di giocare Quindi non Eh no non riuscivo a vedervi Per quello Sì no tranquillo Eh vi mandiamo Vi ho scritto in chat Vabbè non importa Vado Oh ok Adesso avrei fischiato Sta andando a me Un saluto Un salubre Eh boh a questo punto Amici vi lasciamo da gatto Ah si è partito Vi ricordiamo Perché stamattina Abbiamo fatto Sea of Thieves Perché c'è stato un problema C'è stato il problema Di manutenzione Di cazzi Però domani mattina Sperando che vanno tutto bene I server e tutto No no ma domani mattina Si sgobba forte Perché dobbiamo fare 600.000 euro Già paghera Ma non ne avevamo già un po' Marco Me ne frega niente No non ne avevamo su 200.000 Quindi hai voglia di fare Dobbiamo fare 400.000 euro Tutti domani mattina Dobbiamo fare Cosa fai il dito medio Bastardo Ma Non era voluto Fatto il dito medio Ho fatto Visto L'ho visto anch'io Amici quindi a domani mattina Mi raccomando Ciao bellezze Un saluto Tutti da gatto Tutti da gatto Un bacione